Una delle tante regole numero uno in istituzione è se una donna non ti rispetta, una donna non viene a letto con te. Di conseguenza, se tu sei un pappamolle, preparati ad essere il re del fai-da-te. Oppure guarda questo video dove ti spiego come smetterla di esserlo. Prima di cominciare però, una cosa molto molto importante, ho anche un canale Telegram chiamato Giudio Lorenzo, lì ti do informazioni più avanzate che su questa piattaforma non ti posso dare, quindi vienimi a trovare anche lì, link in descrizione. Bene, vediamo i nove modi per smetterla di essere un pappamolle ai suoi occhi. Uno, smettila di farle sempre complimenti senza mai metterla in discussione. Come diciamo in gergo tecnico, l'attrazione sta nel push, cioè nello spingere via la ragazza, mentre tu non fai altro che provare a tirarla verso di te facendole perdere interesse alla velocità della luce. Se tu le fai sempre complimenti, lei sa che la vuoi. Quando una donna sa che la vuoi, oltre ogni ombra hai dubbio, c'è un meccanismo nella sua patata che la fa seccare. Due, smettila di fingerti suo amico quando invece vorresti solo portarla a letto. In gergo tecnico la chiamiamo la seduzione del serpente. Non solo non funziona praticamente mai, ma la maggior parte delle donne non sono sceme. Sanno quello che stai cercando di fare e quindi si tengono solo come maschio beta che le orbita attorno, cioè come l'allocco da sfruttare. Tre, smettila di dire continuamente mi dispiace. Parliamoci chiaro, tu non stai facendo assolutamente nulla per cui ti debbi di spiacere, quindi continuare a dire mi dispiace ti fa solo apparire debole. Quattro, smettila di continuare a qualificarti a lei. Cosa significa? Ogni volta che lei ti chiede qualcosa, tu cerchi di metterti in bella mostra, cercando di provare te stesso. Questo è il comportamento tipico di una persona di minor valore in un'interazione e puoi andarlo ad approfondire in tutti i miei vecchi video sulla conversazione qui su YouTube. Cinque, impara a dire no senza sentirti in dovere di giustificare il perché. Lei in generale non dovrebbe neanche arrivare a pensare in primo luogo che tu debba essere d'aiuto, tanto perché esisti, ma se questo accade va rettificato subito. Sei, smettila di essere quello sempre disponibile in termine di tempo. Lei ti dice che potrebbe vederti il giorno in X, ma poi ti pacca, mentre tu le dai disponibilità ad ogni giorno ed ora della settimana. Sette, se lei ti sfida, impara a controsfidarla invece di qualificarti a lei. Se non impari a mettere sotto una donna verbalmente, lei non verrà a letto con te. Otto, impara a rispondere ai suoi test. Le donne ti fanno quello che in gergo tecnico chiamiamo shit test e tu devi imparare a rispondere a questi in maniera corretta, altrimenti lei perderà qualsiasi tipo di attrazione per te. Nove, impara la giusta subcomunicazione per passare come un uomo dominante ed assertivo, come uno che non si fa mettere sotto. In realtà i problemi della maggior parte degli uomini cominciano proprio qui. Lei ti sgama subito che sei un papamolle proprio dalla tua subcomunicazione. Ti testa quando ti testa, fallisci i test e lei inizia a ignorarti o a trattarti da schifo. Vede che tu continui a seguire e a prostrarti a lei ed ecco che capisce che ha trovato uno scemo da sfruttare. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.